buongiorno mamme sono i navi lardi la cuoca della silonite che balmasic oggi vi propongo una merenda per i vostri bambini muffin con impasto alla ricotta farciti con crema di nocciole gli ingredienti che ci occorrono per preparare circa 16 muffin sono tre uova 300 grammi di zucchero 80 ml di olio di semi di girasole 300 grammi di ricotta 300 grammi di farina 00 la scorsa di un limone non trattato grattugiato una bustina di lievito per dolci più crema nocciolata per preparare la nostra merenda si procede sbattendo in una ciotola con l'aiuto di una frusta le uova intere e amalgamando via via gli altri ingredienti lo zucchero l'olio la ricotta la farina la scorsa del limone grattugiato e la busta di lievito per dolci con l'aiuto di un cucchiaio mettere un po' di impasto nei pirottini per muffin disposti nell'apposita teglia aggiungere quindi la crema nocciolata ricoprire con altro impasto cercando comunque di non superare complessivamente i tre quarti del volume del pirottino per evitarne la fuoriuscita durante la cottura infornare a 180 gradi per circa 30 minuti i muffin una volta sfornati e raffreddati se si vuole si possono cospargere con dello zucchero a velo buona merenda buona merenda